Musica Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati Allora domani sarà la vigilia della partita di Coppa Italia Invece oggi parliamo ancora dell'ultima giocata Quindi quella con l'Elas Verona, l'esordio di Vlaovic, l'esordio di Zaccaria Entrambi in gol Di cosa parliamo oggi? Alcuni argomenti principali da cui partire Poi si andranno un po' a sviscerare Andranno a toccare tanti altri temi Perché ci sono diversi collegamenti da fare Anche in relazione al video che ho fatto uscire ieri Sullo scudetto Come sempre vi chiedo prima di tutto Di lasciare un mi piace a questo video Per favorire la diffusione di questo contenuto E se ne avrete voglia di scaricare OneFootball Il link per scaricarlo è qui sotto in descrizione Oppure inquadrando con la fotocamera del vostro cellulare Questo QR code Lo scaricherete in automatico sul vostro smartphone Fattelo immediatamente Vorrei partire dall'allenatore Da Massimiliano Allegri Perché partiamo da Allegri? Perché ho una sensazione Devo dire la verità Ho una sensazione Prima di parlarvi di questa sensazione Mi ricollego al discorso che ho fatto ieri Su lo scudetto Dove... Non posso rispiegarvi lo stesso video Quindi nel caso andatevelo a vedere Qualcuno mi diceva Ok Luca Magari si realizzeranno quelle tre Condizioni che hai messo giù Per credere effettivamente Nel scudetto Cosa che adesso non faccio Però ricordati che Se anche dovessero concretizzarsi Queste tre cose Ci sono il Milan e il Napoli Sì È vero Infatti Io ieri non vi ho detto che Se succederanno quelle tre cose La Juve vincerà lo scudetto O la Juve diventerà la favorita per lo scudetto Uno perché non lo penso Due Perché ho semplicemente detto che Entrerebbe anche la Juventus di diritto Poi nella lotta a scudetto Cosa che adesso non può fare Non può fare per forza di cose E lo dice la matematica Infatti quando qualcuno mi dice Sì però La Juve non può dire Allegri non può dire che L'obiettivo è l'Atalanta Che la corsa è sull'Atalanta E ignorare quelle altre Perché la Juve in questo momento Ha una rosa Che non le permette Di fare questo ragionamento Io lo condivido Nel senso che Ve l'ho detto Appena chiuso il calciomercato invernale È vero che l'obiettivo È il quarto posto Ma con questa squadra Come fai A limitarti al quarto posto Come può L'obiettivo Rimanere questo Perché Con le difficoltà Che avevamo Prima del mercato di riparazione Io Lo dicevo chiaramente Se arriviamo a quarti Abbiamo fatto Un mezzo miracolo In confronto a quello Che fanno gli altri Abbiamo un attacco Che non segna Facciamo fatica A convertire E quindi Difficile È difficile Perché veramente Non abbiamo modi Là davanti Di concretizzare Si era anche fatto male chiesa Quindi Era abbastanza Complicato Per quanto mi riguarda Adesso invece la Juve Ha una squadra Attrezzata Non dico per vincere lo scudetto Ma dovessimo partire da zero Vi dico che Questa squadra potrebbe Tranquillamente Giocarsi allo scudetto Dovessimo ripartire da zero Annullando il campionato E vi dico anche che Togliendo le prime quattro partite Di questo campionato La Juventus sarebbe Dentrissimo Alla lotta a scudetto Cosa che ovviamente Non puoi fare Non puoi togliere Quattro partite Per finta che non siano mai esistite Però Cerchiamo di capire Un attimo La situazione E contestualizzarla Vi dico anche che Però Chi mi dice Che oggi la Juventus Deve puntare allo scudetto Non prende in considerazione Una cosa su tutte E cioè la matematica Perché si tratta Di tanti punti Distanti Rispetto all'Inter Si parla di Otto Più tre potenziali Che possono essere Undici In quattordici partite Capite da voi Che è tanto Quindi la Juve È in ritardo Per lo scudetto Io posso anche pensare Che possa rientrare Ma devono succedere Determinate cose E rientrare Non significa vincerlo Non significa alzare La coppa Non significa essere sicuri Significa Potersi godere poi Le ultime Cinque Quattro Tre Giornate Con il cuore in gola Perché tutto potrebbe accadere Ma sono due cose diverse Ed è una cosa Terribilmente complicata Proprio perché Siamo in ritardo È proprio perché Abbiamo gettato via Tante occasioni E non solo partendo male Perché poi Ce ne sono state tante altre Nel mezzo Perché c'è stata La sconfitta col Sassuolo La sconfitta con l'Ellas Il pareggio col Venezia Il pareggio col Napoli Il pareggio col Milan Che erano Napoli e Milan In situazioni Un po' così Quindi Oltre Al disastroso inizio Ci sono state Anche altre partite Nel mezzo Che ti hanno fatto Un po' dire Ai Di cosa stiamo parlando È ovvio che Sono quelle Veramente pesanti Le prime quattro E infatti Quando la gente Mi dice Guarda che Allegri non ha Migliorato niente Di questa squadra Da inizio anno Io vi invito A riguardarvi Le prime quattro partite Vi prendete Una copertina Vi prendete il popcorn Vi mettete sul divano Vi fate Una maratona Le prime quattro partite Della Juve E poi vi guardate Le altre Le ultime quattro Magari anche Tolta quella Con l'Ellas Dove c'era il mercato Però vi giuro Che noterete Proprio una differenza Incredibile Nel modo Intanto Di difendere Nel modo Di fare squadra Nell'essere compatti Nel voler portare a casa Il risultato Ricordate quelle parole Di Chiellini Con l'Empoli Questi siamo Non siamo squadra In quel momento Erano vere Erano verissime Ad oggi Vedo un miglioramento Non siamo ancora perfetti Non siamo una squadra Da scudetto al 100% Perché non è così Però vi dico Che Dovesse ripartire Il campionato Da oggi Con questa rosa Tutti i campionati Tutte le squadre Con queste rose Io la Juventus La metto Di diritto Nella corsa Scudetto Che anche qui Non significa Che lo vincerebbe Ma che Sono sicuro Entrerebbe In una competizione In cui Tutti la temono E vi dico La sensazione Detto questo Perché Lo ribadisco Io Allo scudetto Non ci credo Cioè ragazzi Fino a che Non succederanno Determinate cose Scusatemi La matematica La matematica Per me È su tutto Non perché Siamo matematicamente Fuori dallo scudetto Ma Perché Recuperare 11 punti In 14 partite Non si tratta più Di dipende da te Perché ora La corsa Champions Sì dipende da te C'è una grossa novità Dall'altro giorno Da domenica sera Che finalmente È il destino Nelle tue mani E che se vuoi andare In Champions Sei tu Che vai in Champions Che decidi Di andare in Champions Perché se da qui Alla fine le vinci tutte Tu in Champions Ci vai Dipende da te Perché c'hai anche L'Atalanta domenica Quindi vincendo anche quella Le vinci tutte Fai 14 su 14 In Champions Ci vai Se fai 14 su 14 Non è detto Che tu vinca lo scudetto Perché questo Non più dipende da te Non dipende più da te Perché deve mollare l'Inter Perché deve mollare il Napoli E perché deve mollare il Milan Quindi tu puoi anche Vincerle tutte Vincendole tutte Dai dalla tua parte La consapevolezza Che in Champions Ci vai Non hai la consapevolezza Che lo scudetto Lo vinci Capite che sono due cose diverse Sono due cose diverse Ed è per questo Che vi dico È follia oggi Dirmi che se no io Non vince lo scudetto È fallimento Anche perché Parliamoci Chiaramente Nella condizione Di dirvi Sì Mi sento in lotta Per scudetto Partendo da zero Con questa squadra E c'è un piccolo particolare Cioè che questa squadra L'abbiamo per le ultime 15 partite Su 38 Le successive 23 Le abbiamo giocate Con dei problemi Strutturali Ed è qui Che Allegri Parla di Alvaro Morata L'altra sera Dice Alvaro È un giocatore Importante Che si trova A suo agio Meglio Quando gioca Vicino a una punta Stessa cosa La possiamo dire Per Paolo Di Bala E che Non è abile Nel giocare Spalle alla porta L'ha fatto Per sei mesi Con qualche difficoltà Ma l'ha fatto Molto bene Queste sono Le stesse parole Che io vi ho detto Nelle pagelle Invernali Di Alvaro Morata Dicendovi Chi non è soddisfatto Di Alvaro Morata Non conosce La storia Di Alvaro Morata Perché Alvaro Morata È questo È un giocatore Da una decennia di gol A campionato E che Non gioca Spalle alla porta Deve guardarla Alla porta Deve partire da lontano Deve avere il campo Davanti Queste sono le parole Di Allegri Di ieri Dell'altro giorno Dell'altra sera E mischiate A quelle che vi dicevo io E che In tanti condividevano Perché ragazzi Lo dice la storia Alvaro Morata Lo dice Alvaro Morata Giocatore Le caratteristiche di Alvaro Morata Eppure Allegri Per tutto il tempo Fino a che Il mercato Non aveva Assicurato Vlaovic È andato avanti Con il ritornello In attacco Siamo a posto così I gol Dagli attaccanti Stanno arrivando Stiamo facendo bene A livello di caratteristiche Ci siamo Non c'è bisogno Non c'entra avanti Per l'ennesima volta Questo è un amo Non credete Perché Tante volte Mi vengono a scrivere Delle persone Dei commenti In cui dicono Eh ma lei ha detto Questo è in conferenza stampa E quindi È così No L'abbiamo visto ancora adesso Come l'abbiamo visto Da Chirubini Non faremo colpi di teatro Come lo vedemmo Damarotta Non pagheremo la clausola Di Guain Ronaldo La Juve È impossibile Ragazzi Non credete alle dichiarazioni Dei tesserati Della Juventus Io non Forse me lo tatuo qua Forse io Sono costretto A tatuarmelo qua E quindi La Juventus Stessa Era consapevole Delle difficoltà Nell'avere una squadra Di questo tipo Infatti Mi viene da ridere Quando mi si dice Che a inizio campionato La rosa migliore Era quella della Juve Sono opinioni Certo Ma mi sembrano Basate Su volontà Di mettere Pressione A una squadra Con la consapevolezza Che non è effettivamente La migliore del campionato E infatti Quando mi si dice Che Sì vabbè Mettere dentro Vlaovic In una squadra Che non gioca Che lo lascia da solo A 50 metri da porta Isolato Non cambia niente Ragazzi L'abbiamo visto Soltanto inserendo Vlaovic Che cos'è cambiato A livello di caratteristiche Abbiamo visto Togliendo Vlaovic Alla Fiorentina Cos'è cambiato Due partite Senza Vlaovic La Fiorentina A Cagliari Ha pareggiato In casa Con la Lazio Ha perso 3-0 La Juventus Perde Cristiano Ronaldo Le prime quattro partite Fa due punti Il Real Madrid Perde Cristiano Ronaldo All'epoca Inizia malissimo Quando Il peso offensivo Di una squadra Passa Non dico tutto Ma a gran parte Dalle giocate Di un certo tipo Di calciatore E la squadra Sa che può appoggiarsi Lì Cambia tutto Cambia tutto Cambia tutto Perché non si è più Abituati A responsabilizzarsi In primis Perché ci sono Dei giocatori Che poi Quei golli Devono fare Al posto di quegli altri Ci sono dei giocatori Che a centrocampo La palla La devono pur dare Da qualche parte Quando scotta Mancano pochi minuti E sei sotto Dove la butti La butti A cercare Cristiano Ronaldo La butti A cercare Vlaovic Ma anche La sicurezza Che ti dà Per tutta la partita Sapere che Tu stai giocando Con uno Che la partita Te la può risolvere In qualsiasi momento La palla Che dà Di Bala A Vlaovic È una palla Con scritto Duggen Io credo in te Io so Di cosa stiamo parlando E Vlaovic Fa uno scatto Che brucia Il suo marcatore Arriva lì davanti Al portiere E ha già fatto gol Vlaovic Ha già fatto gol Perché gli avversari Sanno Che Vlaovic Può fare Quelle cose lì E quindi Anche un contracolpo Psicologico Per le altre squadre Vederla Juventus che a gennaio Quando sembrava Lì lì Per l'impossibile Nell'entrare in Champions Butta dentro Vlaovic E non solo Perché butta dentro Anche Zaccaria Le altre Fanno un po' più fatica Adesso Già nel tunnel Cosa che Da anni Ci stava mancando Perché Avevano capito Che eravano tornati normali E quindi vi dico La Juventus Sapeva Lo sapeva E ce l'ha dimostrato Col mercato E ce l'ha dimostrato Allegri Con queste parole Sapeva che c'erano Dei problemi strutturali Sapeva che la Rosa Non era all'altezza Ed è intervenuta Giustamente Perché sarebbe stato grave Non farlo Essere consapevoli Non intervenire Quello sarebbe stato Molto grave Quindi abbiamo ancora La possibilità Di salvare una stagione Che era partita In maniera tremenda Una stagione Una stagione che parte In quel modo E arrivi secondo O terzo Secondo me Non è male Anche se ti chiami Juventus Ma non perché Non devi puntare A vincere Ma perché Purtroppo Ti sei giocato Dei punti Che non torneranno E quindi Quella stronza Della matematica Ti condanna Non ufficialmente Non matematicamente Ma in maniera Probabile Diciamo così Per rimanere nella probabilità Nella statistica E quindi nel campo matematico C'è una sensazione Però che vi dicevo Perché è ovvio Che adesso La prova scudetto Sta tornando in auge In tanti tifosi Della Juventus Non li biasimo Non biasimo Chi crede nello scudetto Per me Rimane una follia Perché parla La mia parte razionale La mia parte irrazionale Quella famosa vocina Che Quando eravamo Lontanissimi Dal quarto posto Mi diceva Guarda che Centriamo noi In Champions Stai tranquillo Luca Di cosa stai parlando Noi in Champions Ci arriviamo Ed era soffocata Dalla parte razionale Quindi da quella matematica Che diceva Ma l'hai vista La classifica Ma vedi che Abbiamo difficoltà Nel buttare il pallone In porta Vedi che magari Prendiamo gol Perché Facciamo un blackout Stacchiamo la spina Come inizio anno E quella vocina Dentro di me La passione del tifoso Mi continuava a dire In Champions Ci arriviamo E ora dipende da noi E con la stessa vocina In questo momento Mi sta dicendo Tu davvero non stai credendo In otto punti Più eventualmente tre Che possono essere undici Da recuperare A una squadra come l'Inter Perché ieri qualcuno Ci è rimasto male Sul discorso L'Inter Da qualche tempo A questa parte Non è più La squadra Schiacciassasse Che era inizio anno Mi detto No ma come Non stai vedendo Che comunque L'Inter gioca Fa briga Sì ma non è quello Il discorso Il discorso è che Tu puoi fare Giocare Brigare Se poi la palla Non la butti dentro E dei gol Ne prendi Al calcio Al campo Non gliene frega Mica niente Del fatto che Tu hai dominato Il primo tempo Del fatto che Tu comunque Stai giocando intenso Ma però Non fai gol Al campo Di questo Non gliene frega Niente Al campo gli interessa Alla fine della partita Avere un punto Un gol in più Di quegli altri Perché se no Non vinci la partita Perché il campionato È fatto Di stati di forma Delle squadre E nelle ultime dieci Probabilmente Di campionato È la Juventus La squadra più in forma Che ancora Non significa Che vincerà lo scudetto Che ancora Non significa Che siamo i favoriti Che ancora Non significa Che avverrà il miracolo Perché Di miracolo sportivo Stiamo parlando Quei famosi tifosi Che mi dicono Guarda io lo scudetto Di miracolo sportivo Stiamo parlando Ma quella vocina lì Quella Diavolo di vocina Che è la mia parte Da tifoso Quella che viene dal cuore Perché C'è una parte Che viene dal cuore Una parte Che viene dalla testa La testa ti dice No Impossibile Il cuore ti dice Oh Mancano 14 giornate Di campionato È la mia sensazione Ascoltando Massimiliano Allegri La seguente Vedere un Allegri Che ha le risposte Che dà Le facce che fa Quando gli parlano Gli fa le domande Sullo scudetto Massimiliano Allegri È matto in culo È matto in culo Massimiliano Allegri Perché Sono convinto Che Massimiliano Allegri Creda nello scudetto Sono convinto Che nella sua testa Ci sia Chiaramente La parte Razionale Non quella Irrazionale Non il cuore Il suo cervello Il suo cervello Che ti parla di scudetto Perché i tre punti Li fai Anche facendo Tutti uno a zero Da qui alla fine Facendo uno a zero In ogni partita Ne vinci 14 E chi se ne frega Se fanno Brigano E disfano E tutto Dipende Dipende E poi se la vinca O la partita A quegli altri Io ribadisco Che è difficilissimo Non ci credo E la parte Razionale Ragazzi Mi dispiace Io sono fatto così Sono dalla parte Della razionalità Cioè il mio Razioncino È elevatissimo Però sono anche emotivo E negherei Negherei A dirvi che Nel mio cuore La speranza Che possa accadere Un nuovo 5 maggio Non c'è Ieri ne parlavo Con mio papà Di questa cosa E dicevo Papà io lo so Io lo so Che Allegri ci crede Ma lo vedi Si vede Che lui Dentro di lui Come prima Diceva no In attacco Siamo a posto Qui e là E adesso ti dice Eh no sai che Ma lui ti sta dando Delle risposte Paracule In una maniera Allucinante E mio papà Mi ha dato una risposta Che mi ha Lasciato lì Di sasso Spiazzato Non sapevo più Cosa rispondergli Perché Mi ha detto Luca ma Allegri Allena la Juventus Non allena il Bologna Con tutto rispetto Per il Bologna Il cui obiettivo È salvarsi Nella Juventus Devi vincere E non importa Se tutto Sembra dirti Che non vincerai Perché Allena La Juventus Sì È vero Massimiliano Allegri Allena la Juventus E quindi Prepariamoci Perché Siamo in una situazione In cui non succede E parti Tranquillo Col presupposto Che non succeda Perché tu te la sei Già messa via Tu Te la sei già messa via Tutti i tifosi Se la sono già messa via E lo sanno Che non vinceranno Lo scudetto Lo sappiamo Ne siamo consapevoli Poi c'è il più positivo Che lo sogna Ma A livello di consapevolezza Lo sappiamo tutti Quindi quello che viene Viene Quello che verrà Dovremo avanti Adesso alla fine Chi se ne frega Proprio perché Abbiamo in mano Il nostro destino Su quello che è L'obiettivo dichiarato E cioè Qualificarci in Champions Che è il must Poi Ci sono tante giornate Da qui alla fine Ancora Guardiamo cosa fanno Le altre Ma con un solo obiettivo In testa Vincere tutte le partite Nostre Noi dobbiamo scendere In campo per vincerle tutte Ve lo dico tranquillamente Con una rosa di questo tipo Una squadra di questo tipo Secondo me possiamo Vincerne 14 su 14 Ve lo dico eh Personalmente Credo questo Poi si apre un discorso Di stati di forma Si apre un discorso Di turnover Di infortuni Di stanchezza La stessa Champions Che Potrebbe portare via Delle energie Fisiche e mentali Ma con questa squadra Secondo me Non c'è un limite Nel vincerne 14 su 14 Considerando che Ben o male Di partite importanti Ti sono rimaste l'Inter L'Atalanta Poi tutte le altre Sono abbondantemente Alla tua portata Puoi dipendere Da quegli altri Perché magari L'Inter ne vince 13 su 14 Anzi 14 su 15 Dado che ha un recupero E vince lo scudetto O magari l'Inter Ne sbaglia qualcuna E ne vince 14 su 14 Il Milano O 14 su 14 Il Napoli E quindi Milano Napoli Campione d'Italia E nel caso Faremo gli applausi Perché noi L'abbiamo già messa via Noi l'abbiamo già messa via Siamo nella tranquillità Più totale In cui l'unica cosa Che abbiamo da perdere È la Champions Che dipende da noi Tutto il resto Siamo spettatori Spettatori non paganti Se poi dovesse rincastrarsi Quelle famose condizioni Già adesso Ci temano Già adesso La gente Le squadre I tifosi Gli avversari Hanno paura Della Juventus Che ha messo Blaovic e Zaccariano All'organico Si percepisce Non la state notando Nell'area Questa elettricità Statica Quando aprite i social network E leggete le parole Di quegli altri Quando sotto i video Vengono a commentare Quegli altri Non la percepite Non lo sentite Questo odorino Eh sì Eh sì C'è Ragazzi è nell'aria Perché erano convinti Di aver fatto il funerale Alla Juventus E invece la Juve è stata brava Brava Perché qua bisogna dirlo Siamo stati bravi Anche quando La squadra Non era all'altezza A fare quello che si poteva fare Non abbiamo fatto Il gioco Del Brasile E ai mondiali del 2002 Certo che no Ma la classifica Ora ci dice che Dipende da noi Per l'obiettivo stagionale E per tutto il resto Chi vivrà vedrà Fatemi sapere un po' La vostra opinione Qui sotto nei commenti I wanna be the best in the game Invest in my name Check no restraints I'm obsessed with the pain I ingest, I retain Assess and I change Possessed by the thought I'll be free one day From society's restraints Money, clout, and fame A disease, a plague We all love to hate Have to play the game Have to make a name All our insecurities are run This f***